La palla in Castromanna il tiro, gol! Gol! Gol di Castromanna! La Lazio pareggia il 90esimo! La Lazio pareggia il 90esimo e il cuore della Lazio! Il cuore della Lazio! La Lazio pareggia 2-2! Esploda la curva nord! Ci siamo ancora! Ci siamo ancora! La Lazio agisce di rimessa. Simeone ha grinta e tecnica quando il minuto 39 dà palla a Castromanna in campo da pochissimo. Il 3-1 che chiude i conti si conti... La victoria por 3-1. Ci siamo ancora con il tanto della Lazio che le gano 1-0 alla Fiorentina. Se fu al descenso Fiorentina. Il unico gol lo notò Lucas Castromanna. Venció 1-0 il equivo visitante e Fiorentina... Il gol del vantaggio della Lazio ottenuto allo scadere del primo tempo grazie a un preciso rasoterra di Castromanna, insaccatosi a fil di palo. Questo è un 3-1 per cui... Batte Mijajovic... Bravo! Castromanna ha segnato di testa... E già da questi primi minuti dopo il gol dà la sensazione di potersi difendere, dà la sensazione di poter... Attenzione il raddoppio! Il 2-0! Tornando gasta...